andiamo oggi a vedere un'altra delle innumerevoli novità introdotte il 18 maggio questa volta relativa alla web viewer ed ad alcuni metodi che hanno introdotto veramente molto interessanti come al solito ci portiamo alla pagina appinventor.mit.edu e clicchiamo su create per accedere a tutti i nostri nuovi progetti creiamo questo nuovo progetto che si chiamerà web view string, tra poco vedremo perché in pratica riusciremo a passare delle stringhe da e per le nostre pagine html tramite sempre appunto il componente web viewer andiamo subito a toglierci questa curiosità cliccando il punto di domanda sul componente web viewer ed andando sul more information dove abbiamo l'help di questo componente come vedete è stato aggiunto il web viewer web view string, una proprietà che ci permette di comunicare tra la nostra app ed un codice javascript che gira in una pagina appunto visualizzata nella web view tramite l'app possiamo impostare e leggere questa web view string che come vedremo tra poco potrà tornarci molto utile qui ci sono appunto alcuni esempi che andrò ad illustrarvi a breve quindi torniamo nel nostro progetto ed andiamo a definire le caratteristiche dello stesso come titolo mettiamo web viewer string test visto che è semplicemente una prova e poi andiamo come layout a posizionare un horizontal arrangement dove andiamo a mettere una text box dove l'utente scriverà una stringa e due pulsanti allora questa text box sarà semplicemente il testo da passare alla nostra web view quindi per esempio la impostiamo così il testo da passare alla web view come suggerimento inserisci un testo e i due pulsanti invece saranno per inviare e per ricevere questa variabile questa stringa dalla web view quindi lo chiamiamo il primo button send e come testo scriviamo invia il secondo lo chiamiamo button receive e in descrizione scriviamo appunto ricevi le impostiamo in fill parent in modo che tutto quanto ci venga, tutto lo spazio venga utilizzato e siamo a posto altri componenti che dobbiamo mettere naturalmente è la web viewer che se non avete visto vi invito a scoprire i miei vecchi tutorial sulla web viewer realizzati con App Inventor 1 tanto in pratica non è cambiato nulla comunque molto velocemente vi posso dire che con la web viewer noi visualizziamo una pagina internet all'interno della nostra applicazione più che una pagina internet una pagina HTML mettiamo qua l'altezza in fill parent e come screen one togliamo l'elemento scrollable in modo che ce la prenda a tutta altezza questa web view per il nostro utilizzo non ci interessa che segua i link e che ci chieda le permessi per l'utilizzo della locazione quindi tutto il resto lo possiamo lasciare in questo modo ultimo elemento da aggiungere un notifier per dialogare con il nostro utente tra l'altro visto che abbiamo anche la possibilità adesso di impostare un colore di sfondo ed il colore del testo cosa molto carina che una volta non era possibile fare torniamo un attimo a leggere quello che è l'help in inglese qua dice per esempio se il web viewer apre una pagina che contiene questo comando javascript document.write the answer is e poi questa stringa window app inventor get web view string in pratica va a leggere quello che abbiamo impostato nella web view string tramite il blocks editor infatti dice se settate la web view string a hello per esempio allora la pagina web mostrerà the answer is hello quindi compone questa stringa che abbiamo impostato da blocks editor al contrario se vogliamo invece leggere dal javascript andare a trasferire una stringa dal javascript alla nostra applicazione dobbiamo impostare nel javascript con questo comando set web view string e la nostra stringa in modo che il valore del web view string diventa in questo caso in app inventor nel blocks editor hello from javascript per fare questo andiamo a vedere un attimo nel blocks editor appunto la web viewer come vedete abbiamo semplicemente questi due nuovi proprietà quindi la web view string e la set web viewer web view string come facciamo ad interagire con il javascript ci serve appunto un file javascript scritto appositamente io questo file l'ho già creato ve lo darò a disposizione comunque scaricando il sorgente lo potete anche voi avere praticamente è fatto in questo modo molto semplicemente tutto il cuore della nostra applicazione sta tra i due tag script vi consiglio anche di scaricare se non avete un editor di testo predefinito ps pad che è gratuito ed è molto valido come vedete abbiamo quello che si è detto prima windows app inventor get web view string che legge nel javascript quello che è stato scritto nell'applicazione oppure set web view string che imposta dal javascript la variabile che poi possiamo leggere nella nostra applicazione questo semplice file html dove va messo va messo da design editor va caricato come media quindi andiamo a sceglierlo e lo inseriamo diamo l'ok e vediamo che appare qui come media andiamo ora nel blocks editor e vediamo un attimo cosa bisogna impostare qui vado ad impostare una variabile che chiamo development che ci servirà in fase di sviluppo e di test della nostra applicazione inizialmente messa al valore true perché faccio questo ve lo spiego subito qua ho preso degli appunti da farvi vedere praticamente se noi siamo connessi tramite companion quindi siamo diciamo in fase di debug il file che noi abbiamo caricato viene memorizzato in questo path vedete file mnt sdcard app inventor asset quando invece creiamo il file apk quindi lo distribuiamo e lo compiliamo il file non è più in mount sdcard app inventor asset ma è in android asset quindi possiamo fare una cosa carina da blocks editor programmare questi due path in modo che la nostra applicazione si adatti alle due modalità diciamo a seconda di come impostiamo questo flag quindi andiamo su screen one e mettiamo when screen one initialize andiamo ad impostare allora praticamente la web viewer vogliamo caricare la pagina però abbiamo detto che la pagina è diversa in base al fatto che la stiamo utilizzando tramite in fase di sviluppo o meno quindi web viewer one home url to e mettiamo un controllo questo controllo if then else la condizione da controllare è questa development quindi get global development e poi due diciamo le due stringhe di testo che abbiamo visto quindi se siamo in sviluppo il path che dobbiamo impostare è questo quindi posso fare copia incolla mount sdcard eccetera eccetera se invece stiamo in produzione il path da utilizzare sarà quest'altro ovviamente il nome del file che è nei media qua nel designer media come vedete deve essere esattamente lo stesso poi riportato anche nel blocks editor altrimenti la nostra applicazione non funzionerà ora guardiamo la prima modalità se voglio impostare un parametro una stringa e la voglio passare alla web view quindi la stringa è scritta nella textbox quando clicco invia voglio inviare quello che è scritto in questa stringa nella web view quindi come faccio andiamo a programmare il pulsante when button one send click allora la textbox nascondiamo la tastiera perché l'utente ha inserito quello che voleva inserire ed andiamo ad impostare da web viewer quello che abbiamo visto prima la web view string a che cosa semplicemente al valore che c'è all'interno del campo text della textbox quindi questo sarà il nostro valore e poi andiamo a ricaricare praticamente la nostra pagina della web viewer quindi col web viewer go home in pratica visto che qua impostiamo la web view string della web viewer e il nostro file html è questo ora ve lo mostro eccolo qua come vi ricordate prima noi in pratica l'abbiamo impostato qui quindi la pagina html javascript la legge con get web view string quindi vedremo un documento html il cui contenuto sarà il valore inserito dall'app e quello che ha inserito l'utente se siete un po' più esperti di me in html potete ovviamente formatare la pagina come meglio credete con stili css e quant'altro per renderla magari diversa è più gradevole possiamo quindi testare questa prima parte della funzionalità ci colleghiamo col companion lasciamo development a true in modo di appunto lavorare in fase di sviluppo e vediamo cosa succede eccoci qui con l'applicazione che sta girando nel nostro cellulare collegato col companion come vedete questo è il testo premio invia e viene caricato nella pagina html mostrata qui dentro nella nostra web viewer ovviamente se io qui cambio il testo proviamo a scrivere qualcos'altro per esempio ho scritto questa è una prova lo invio e vedete che viene correttamente visualizzato nel file html qui sotto quindi altro test invia come vedete possiamo dialogare tra la nostra app e la nostra web viewer ora andiamo a vedere invece l'altro metodo quello che ci permette di fare la cosa al verso opposto ovvero di leggere dal file html leggere una stringa di testo in App Inventor quindi andiamo a prendere il web viewer web view string che è quel valore che abbiamo visto precedentemente nel file html javascript e quando l'utente clicca su receive quindi button receive click cosa vogliamo andare a fare in questo caso vogliamo mostrarlo tramite notifier come messaggio di alert all'utente giusto per semplificare un po' le cose e facciamo anche così una text così magari capite meglio una join dove la prima parte è un testo fisso scritto da noi quindi non lo so ad esempio la stringa letta dal file javascript e due punti spazio slash n così va a capo ed è il valore della web view string andiamo a rivedere un attimo nel nostro file html ho qua l'assetto come web view string vedete questo è il valore letto dal file javascript quindi in pratica se noi andremo a cliccare sul pulsante ricevi dovremmo ricevere questa stringa andiamo a provarla guardiamo se ancora questo sta girando clicco su ricevi vedete che mi parte il notifier in rosso dove c'è la stringa che abbiamo impostato nel file javascript questo è il valore letto dal file javascript ora un paio di precisazioni importanti questo file lo potete liberamente scaricare utilizzare a vostro piacimento e modificare ovviamente nessuno vi obbliga ad avere un testo fisso qui dentro ma potrebbe essere un testo letto da un'altra pagina html l'importante è che vi ricordiate che se voi cambiate qualcosa qui non verrà preso al volo nella vostra applicazione connessa con appunto appinventor ma dovete dare un upload file dovete riscegliere il file scegliere lo stesso file vi avvisa che il file esistente verrà rimpiazzato con quello nuovo in questo modo verrà aggiornato poi dovete fare connect reset connection e connect i companion per ricaricare in pratica sul vostro cellulare il file html nuovo con le vostre modifiche se non fate questo magari diventate pensate di cambiare l'html poi non funziona ed il motivo è semplicemente questo altra cosa fondamentale da ricordarsi prima di fare il build app come qrcode o come apk cambiate questo flag a false perché se abbiamo compilato il file apk allora il nostro file che abbiamo caricato in media si troverà in android asset e non più in mnt sdcard app inventor quindi questo è fondamentale altrimenti se la distribuite per esempio sul play store e vi dimenticate di mettere questo a false la vostra applicazione una volta scaricata sui cellulari dei vostri utenti non funzionerà più questo esempio era volutamente semplice lo vedremo in un altro tutorial invece come poter caricare ad esempio una tabella html presa su internet in modo da caricare un file csv preso da internet e visualizzarlo nella nostra applicazione magari sotto forma di tabella sempre utilizzando una web view e javascript che è una modalità veramente potente di utilizzare app inventor se vi è piaciuto questo video come al solito un pollice in su è molto gradito per domande dubbi chiarimenti potete utilizzare i commenti di youtube venite anche a trovarmi sul mio blog ufficiale all'indirizzo seblogapps blogspot.it dove trovate anche un forum dove si discute tutti insieme tutti in compagnia sulle varie tematiche legate appunto ad app inventor ancora grazie a presto ciao ciao